Grazie, consigliere Milazzo. Grazie a tutti. Voglio predigere un testo condiviso sulla questione della clinica di San Michele. Avvalendoci del comma 5 dell'articolo 77 del regolamento del Consiglio Comunale che dice il Presidente e il Sindaco possono fare nel corso della seduta comunicazione estranea agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia seduta e iniziata, io mi sento di interpretare in senso favorevole questo comma 5 dell'articolo 77 per dare la possibilità di discutere della questione già affrontata alle ore 17. Ho sbagliato, non è discutere, come ho detto prima, di fare comunicazione riguardo a questo problema della clinica di San Michele. Quindi, il Sindaco ha pronto un documento. I capigruppo vogliono prendersi 5 minuti di tempo per leggerlo insieme al Sindaco? Anche 10. Sospendiamo di nuovo per 10 minuti il Consiglio Comunale e possiamo andare in sala giunta. Possibile? Allora, possiamo andare in sala giunta con il documento, 10 minuti di sospensione, questa volta cercheremo di rispettare gli orari.